Il nostro paese è sempre stato un paese a grande emigrazione, tuttavia negli ultimi due o tre decenni questa situazione è radicalmente cambiata, siamo un paese a grande immigrazione. In questo senso noi non abbiamo mai avuto una legge efficiente, non abbiamo mai avuto una legge fino al 1998 quando il legislatore ha introdotto la turco napolitano. Nel 2002 è stata emanata la famosa Bossi-Fini, mentre nel 2009 è stato introdotto il pacchetto sicurezza con un decreto legge che è stata la reazione un po' di pancia a episodi di violenza posti in essere nel nostro paese da immigrati. Il problema dell'immigrazione affrontato con questi continui cambi legislativi deve essere a mio parere affrontato e invece è con un'angolatura diversa. Quello che è accaduto a Lampedusa, le scorse settimane in particolare, fa riemergere in tutta la sua tragicità questo problema. Il Santo Padre ha ricordato che qualcuno si dovrebbe vergognare, allora ci dobbiamo domandare chi si deve vergognare di questo episodio. Ci dobbiamo vergognare tutti perché il razzismo strisciante del nostro paese chiaramente non contribuisce a un genuino dibattito sul tema. Si deve anche vergognare chi in questi anni non è riuscito a posti in essere legislazioni efficienti, ma solo norme che sono il prodotto di reazioni di pancia. L'attuale assetto normativo della legge sull'immigrazione è sbagliato, è sbagliato il metodo. Bisogna quindi ripartire dall'approccio. L'immigrazione non è un fenomeno criminale e quindi tutte le norme, come per esempio il reato di clandestinità, devono essere cancellate. L'immigrazione è un fenomeno sociale, è un fenomeno che ci sarà, c'è stato con gli episodi, le tragiche morti che sappiamo e ci saranno ancora. E quindi questo cambio di approccio è il primo metodo, il primo rimedio dal quale partire. In secondo luogo bisogna modificare la legislazione vigente considerando che, primo, gli immigrati non restano nel nostro paese, ma molti di loro se ne vanno per andare in centro Europa. E in secondo luogo che molti di loro sono rifugiati e quindi devono essere protetti, devono ricevere protezione internazionale.